Dopo la vittoria dell'andata per 1-0, ora la città ci crede e attende con grande trepidazione il ritorno della semifinale che si svolgerà in campagna e per la quale ci sono grandi aspettative. All'orizzonte il sogno della Serie B, un sogno rimasto tale per anni ma che adesso sembra un traguardo raggiungibile, soprattutto dopo la vittoria con la corazzata del Benevento. Proprio per dare il massimo sostegno ai ragazzi di mister Antonio Calabro, il Popolo Azzurro sta organizzando un vero e proprio esodo che punta a riempire la curva Nord Ospiti che prevede una capienza di 1.390 persone. Per la trasferta di Benevento si stanno organizzando in tanti e per questo io li ringrazio e li esorto sempre a starci vicino nei momenti così come questo positivo e anche nei momenti di difficoltà dove noi abbiamo bisogno soprattutto del loro sostegno. Tutti a Benevento è infatti lo slogan degli Ultras che stanno organizzando Pullman in vista della gara. Per l'occasione anche il Comune ha deciso di allestire un maxischermo probabilmente a Marina di Carrara. In caso di qualificazione della finale ci sarà da aspettarsi una richiesta incredibile per lo stadio dei Marmi e ci sarà da capire se la sindaca Serena Righi potrà alzare di 200 posti la capienza dello stadio che al momento non è a norma per ospitare la Serie B.